A Buonabitacolo, nella giornata di ieri, ci sono stati due grandi momenti emozionanti. Si tratta della cerimonia svoltasi per intitolare il largo antistante la caserma dei Carabinieri all'appuntato scelto Luca Ferraiolo e a seguire la commemorazione del 42esimo anniversario della morte del generale Carlo Alberto Dallachiesa. La cerimonia ha avuto inizio con gli onori militari al colonnello Filippo Melchiorre, comandante provinciale Carabinieri di Salerno. Successivamente si è proseguito con lo scoprire la targa dedicata all'appuntato scelto Luca Ferraiolo. Alla cerimonia erano presenti il padre, la madre ed il figlio Paolo Giuseppe Ferraiolo. Parole di elogio per il servizio svolto dall'appuntato scelto da parte del sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio e del comandante provinciale Carabinieri di Salerno. Ricordiamo che Luca Ferraiolo si è arruolato nell'arma dei Carabinieri nel 2004, prestando inizialmente servizio a potenza. Trasferito poi a Napoli nel 2009, ha ottenuto la promozione al grado di Carabiniere scelto. Successivamente, a bello sguardo, ha raggiunto il grado di appuntato e nel 2015 è stato trasferito a Buonabitacolo fino al 2020, momento in cui è venuto a mancare per una grave malattia. Durante la sua carriera è stato insignito di diversi premi e medaglie da parte della Protezione Civile, medaglia di bronzo dal Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio, la Croce d'Argento per i 16 anni di servizio e l'encomio semplice da parte del comandante della Legione Carabinieri Campania, in qualità di addetto a stazione distaccata, evidenziando la sua notevole professionalità. Alto senso del dovere è spiccato a come investigativo. La dedica al largo è un atto dovuto che riempie di orgoglio tutti i cittadini di Buonabitacolo.